La premiata si intitola a nudo, la motivazione critica è stata realizzata dalla dottoressa Elena Cicchetti anche per Antonietta Orsi vorrei un suo commento Grazie Come per noi dagli artisti sceglieranno che negli ambienti così evitanti e portare a tutti questi pelini Grazie Grazie a te Antonietta Ringraziamo anche noi tutte le famiglie mariti, mogli, grandi sostenitori degli artisti